Potrebbero essere i cellulari di alcuni passeggeri a svelare la verità sull'elicottero precipitato il 5 novembre scorso sulle colline tra Apricena e Sanicandro Garganico in provincia di Foggia, provocando sette vittime. Lo ipotizzano gli inquirenti che per questo motivo hanno disposto un'analisi sui telefonini di due persone che erano a bordo del velivolo. Gli approfondimenti saranno eseguiti nei prossimi giorni dai carabinieri che acquisiranno tutti i dati contenuti negli apparecchi telefonici nel tentativo di trovare elementi utili a ricostruire la tragedia. Nel misterioso schianto dell'elicottero della società di trasporto aereo Alidaunia hanno perso la vita i due piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli, il medico del 118 Maurizio De Girolamo e un'intera famiglia di turisti sloveni, madre, padre e due figli di 13 e 14 anni di rientro da una escursione alle isole Tremiti. Ancora tutte da chiarire le cause del disastro, tra le piste seguite dalla procura di Foggia che ha aperto un'inchiesta a carico di gnoti per disastro avviatorio colposo e omicidio colposo plurimo, quella del problema tecnico, dell'errore umano o dell'incidente causato dal forte maltempo. Intanto a breve riprenderanno anche i rilievi tecnici sul relitto dell'elicottero che si trova attualmente nell'hangar dell'aeroporto militare di Amendola. Cinque i consulenti nominati dalla procura dell'ANSV, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, chiamati ad esaminare minuziosamente gli oltre 200 reperti recuperati sul luogo del disastro, elementi che potrebbero aiutare a fare luce su cosa sia davvero accaduto la mattina del 5 novembre scorso sui cieli del Gargano.